Bella ragazzi, io sono Kanos e oggi volevo parlarvi della modalità Commander di Battlefield 4. Il Commander è un giocatore a parte che non spawna in partita e tiene sotto controllo tutta la mappa. Per questo si può giocare col tablet e forse non si sa ancora, con lo smartphone mentre sei al bar o a scuola o all'università. Ti colleghi ad un server di Battlefield 4 e giochi in modalità comandante. Potete notare sulla schermata in basso a sinistra un video in bianco e nero che vi mostra ciò che selezionate in stile telecamera di sicurezza. Ma potete vedere anche la prospettiva in prima persona del vostro caposquadra o avere un'inquadratura dall'AC-130 che bombarda il terreno. Le abilità in alto a sinistra come l'UAV o la cannoniera possono essere usate in base alle bandiere che ha la vostra fazione. Con il missile Tomahawk dovrete sincronizzare bene l'attacco in quanto impiegherà dai 10 ai 20 secondi, forse esagero un po', per giungere a bersaglio. L'AC-130 il Commander può farlo spawnare in una certa area della mappa ed inizierà a girare intorno a quell'area e come in Battlefield 3 la fazione ci potrà spawnare e paracadutarsi. L'UAV anche lui inizierà a girare in una certa area scelta dal Commander e spotterà i nemici. Per contrastare l'UAV c'è l'MPUAV che non permetterà lo spottamento sia sulla minimappa che di persona, ci renderà praticamente invisibili. Ci sono altre due funzioni che non erano presenti nella pre-alpha alle 3, ma c'erano nel menu del Commander. Una è il Vehicle Drop che permette di far avere la fazione dei veicoli, non si sa ancora quali ma dovranno decidere gli sviluppatori. L'altra funzione è il Supply Drop già presente in Battlefield 2 e Battlefield 2142 che permetteva di avere riparazioni ai veicoli, cure e munizioni. Bene ragazzi per oggi è tutto, se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace e un commento e per avere altre informazioni su Battlefield 4 iscrivetevi. Io sono Kanos, Bella! Ciao! 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 Ciao!